Buongiorno dalla redazione del telegiornale. In primo piano la guerra in Medio Oriente si combatte vicino agli ospedali della striscia di Gaza dove secondo le autorità militari israeliane ci sarebbero i centri di comando di Hamas. E proprio le autorità israeliane hanno detto che Hamas non controlla più ormai la striscia soprattutto nella zona a nord. Le truppe israeliane spongono le bandiere con la stella di David all'interno del Parlamento di Gaza e il ministro della difesa Gallant ad annunciare che la striscia non è più sotto il controllo di Hamas. La città è asserragliata e i combattimenti hanno il loro epicentro vicino agli ospedali sotto i quali secondo Israele si nasconderebbero i guerriglieri di Hamas. La situazione soprattutto in quello di Al-Shifa, il più grande della città, è drammatica. Ci sono più di 400 pazienti che aspettano di essere trasferiti, compresi bambini nati prematuri e tolti dalle incubatrici per mancanza di carburante. Israele ha annunciato la consegna imminente dei macchinari ma dall'ospedale non confermano. La situazione è al collasso secondo l'ONU e anche la ONG Human Rights Watch sostiene che i ripetuti attacchi dell'esercito israeliano contro strutture mediche, personale e trasporti stanno ulteriormente distruggendo del sistema sanitario di Gaza e dovrebbero essere indagati come crimini di guerra. Hamas intanto ha pubblicato il video di un ostaggio, la soldatessa israeliana Noa Marciano rapita durante l'attacco del 7 ottobre. Il filmato integrale mostra la 19enne che legge un testo e alla fine viene mostrato il suo cadavere. Secondo Hamas Marciano sarebbe morta durante un bombardamento israeliano lo scorso 9 novembre. Ma la situazione è caldissima anche fuori dalla striscia. Hezbollah, il gruppo fondamentalista libanese vicino all'Iran, che secondo il premier Netanyahu sarebbe giocando con il fuoco con i suoi continui attacchi contro lo Stato ebraico, sarebbe pronto ad entrare pienamente in guerra contro Israele se Hamas sarà sul punto di essere distrutta. Anche il re di Giordania, Abdullah, ha avvertito che le continue violazioni israeliane in Cisgiordania e Gerusalemme potrebbero spingere la regione verso un'esplosione. Torniamo in Italia per parlare dello sciopero convocato per venerdì prossimo. Il garante ha evidenziato che mancano alcuni requisiti in alcuni settori e chiesto così ai sindacati di cambiare le modalità della protesta. Allora sentiamo qual è stata la replica dei leader sindacali. Avanti, CGL e Will confermano lo sciopero generale a scaglioni territoriali, si inizierà al centro Italia venerdì prossimo. Escluderanno dalla protesta solo il trasporto aereo. Per il resto nessuna rimodulazione dell'agitazione, come richiesto dall'autorità garante, secondo la quale mancherebbero i requisiti per considerarla un vero e proprio sciopero generale. Non abbiamo alcuna intenzione di rispettare i dividi della commissione di garanzia, non ci faremo intimorire, dice il segretario della Will per Paolo Bombardieri. Il garante ha sbagliato perché sta forzando, una forzatura che mette in discussione il diritto di sciopero e Salvini dovrebbe avere più rispetto per i lavoratori e le lavoratrici che scioperando ci rimettono dei soldi e lo stanno facendo per migliorare questo paese. In calza è leader della CGL, Maurizio Landini. Ma Matteo Salvini avverte, se i sindacati non rispetteranno le regole sarò io a imporre direttamente le limitazioni orarie. È questione di buonsenso, una minoranza riscritta da alcune sigle sindacali non può danneggiare un intero paese, sottolinea il ministro dei trasporti e segretario della Lega, mentre il carroccio dà una stoccata al leader della CGL. Il garante mette in castigo il capriccioso Landini con la sua pretesa di trascorrere un weekend lungo sulla pelle di milioni di italiani. Con CGL e Will si schierano PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Meloni umilia i lavoratori calpestando il loro diritto di sciopero, attacca la segretaria di Mellish Line. Sottoscriviamo completamente le ragioni dello sciopero, commenta il presidente pentastellato a Giuseppe Conte. Non si spengono le polemiche dopo la morte di Indy Gregory, la bambina di otto mesi, alla quale, lo sapete, sono stati staccati i macchinari che la tenevano in vita. Vediamo. Indy Gregory se n'è andata, rimane il dolore della famiglia, l'amarezza e un grande vuoto che le polemiche non possono colmare. Ai genitori resta la rabbia per aver visto staccare i supporti vitali alla figlia contro la loro volontà, il loro senso di vergogna per averle fatto trascorrere gli ultimi attimi di vita in un hospice invece che a casa con la sua famiglia. Per Simone Pillon, avvocato che ha affiancato il legale inglese in Gran Bretagna, si è perso il senso della sacralità della vita. Una malattia è inguaribile, non è incurabile. Claire e Ding Gregory avrebbero voluto portare la piccola in Italia al bambin Gesù che l'avrebbe presa in cura. Difficile dire ora cosa avrebbero fatto i sanitari. secondo Pillon sarebbero potuti intervenire con un'operazione cardiaca per tentare di togliere il respiratore oppure l'avrebbero affidata anche lì alle cure palliative di un hospice. C'è un caso simile accaduto nel 2019, Tafida Rekeb, bambina di 5 anni londinese colpita da una grave emorragia cerebrale. I genitori assistiti sempre da Pillon si opposero alla decisione dei sanitari di staccare la spina e ottennero dai giudici dell'alta corte di portarla a Genova. Da allora è ricoverata nell'hospice del Gaslini dove riceve cure palliative. Oggi ha 9 anni e vive grazie ai supporti vitali. E restiamo in Gran Bretagna perché ha suscitato sorpresa il rimpasso di governo con il clamoroso ritorno dell'ex premier David Cameron che nel 2016, lo ricorderete, fu travolto dal risultato del referendum sulla Brexit che lui stesso aveva convocato. E allora il premier britannico lo ha posto alla guida del Foreign Office, il Ministero degli Esteri. Il premier Sunac ha inoltre formalizzato il siluramento della ministra dell'interno Suella Breverman Falco della Destratori che nei giorni scorsi si era resa protagonista di una forte polemica con i vertici della polizia londinese. La cronaca ci riporta in Italia, ci porta nel Veneto perché non c'è ancora nessuna notizia del ragazzo e della ragazza poco più che ventenni ex fidanzati dei quali non si hanno più notizie da sabato scorso. Alcune macchie di sangue in un parcheggio di Vigonovo, paese del veneziano dove Giulia e Filippo sarebbero stati visti litigare per l'ultima volta sabato dopo le ore 23 prima di sparire nel nulla. E ancora le immagini delle telecamere cittadine che sabato notte in alcuni comuni del Pordenonese avrebbero ripreso la punto nera di Filippo transitare e riconosciuta dalla targa, ma soprattutto i due ragazzi e l'auto che non si trovano ancora. Sono alcuni degli elementi sui quali i carabinieri di Venezia restano cauti, molti i dettagli di un giallo che diventa sempre più complicato con il passare delle ore, ormai più di 48. Li hanno cercati anche questa notte con l'aiuto degli elicotteri tra le province di Venezia, Padova e Treviso, ma anche oltre il confine del Veneto e fino al Friuli Venezia Giulia. Ancora nessuna traccia di Giulia Cecchettini e l'ex fidanzato Filippo Turetta. Ultimo contatto sabato sera quando erano andati a cena in un fast food di Marghera. La ragazza aveva scritto un sms alla sorella verso le 22.43 e sembrava serena. Più o meno alla stessa ora il cellulare del suo ex avrebbe agganciato una cella telefonica della stessa zona, poi il buio. Il papà di Giulia teme il peggio perché a suo dire Filippo non accettava la fine del rapporto. Finito ad agosto, ma non l'amicizia. I ragazzi fidanzati per alcuni mesi si erano conosciuti all'università di Padova. Al corso di ingegneria Giulia avrebbe dovuto discutere la laurea fra pochi giorni. I carabinieri non escludono nessuna ipotesi. Apriamo la pagina dello sport. È il giorno dell'addio di Rudy Garcia dalla guida del Napoli a sostituire il tecnico francese. Sarà con tutta probabilità il croato Igor Tudor. L'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Forse molto più di un semplice segnale. La statuina natalizia di Rudy Garcia con la valigia in mano la dice tutta sul clima che si vive a Napoli dopo la sconfitta con l'Empoli. San Gregorio Armeno più rapido di Aurelio de Laurentiis nel prendere una decisione nell'aria da diverse settimane. Dato ormai per scontato l'esonero del tecnico, il numero uno del club ieri ha incontrato Igor Tudor, ex udinese, vice di Piro alla Juventus e poi al Verona e dal Marsiglia. Proposto un accordo sino a fine stagione. Tudor vorrebbe un biennale ma soprattutto abbandonare il 4-3-3 che ha accompagnato la cavalcata Scudetto. In mattinata la risposta di De Laurentiis. Domani la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno. Ieri ha intanto preso il via la preparazione della nazionale in vista del decisivo impegno contro Macedonia del Nord ed Ucraina. Subito qualche contrattempo con il doloroso infortunio a Locatelli, frattura della decima costola. L'allarme cambiaso allenato sia parte con lo squalificato Di Lorenzo. In precedenza avevano dato forfetto Loi, Meret e Calabria. Spalletti che ieri ha convocato Lazzari e oggi potrebbe chiamare altri giocatori, in cima alla lista Spinazzola e Florenzi, si è detto ottimista in chiave Euro 2024. A Wembley le sue parole ho visto anche sprazzi di luce. Il CT ha difeso le sue scelte dagli inglesi Zaniolo e Giorginio all'esclusione di Immobile. Giovedì il trasferimento a Roma, dove venerdì è in programma la sfida con la Macedonia del Nord. E per il tennis c'è attesa a Torino per la sfida di questa sera tra Yannick Sinner e il numero uno del mondo. Nole Djokovic si gioca per la seconda giornata delle ATP Finals. Entrambi i giocatori hanno vinto la loro partita d'esordio. Sinner con disinvoltura sul greco Sissi Pass. Djokovic è sicuro di essere il numero uno al mondo a fine stagione, dopo tre set molto combattuti e tre ore di gioco contro Rune. In quattro precedenti l'azzurro ha sempre perso. L'anno scorso a Wimbledon, nei quarti di finale, è stato vicino al successo dopo essere stato in vantaggio di due set. Djokovic è favorito, ma la crescita di Sinner, soprattutto in quest'ultima parte di stagione, è però evidente. E allora è tutto con le notizie del telegiornale. Rimanete con noi perché ci sono tra poco gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale. Poi torna come sempre Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo. Poi c'è Alessandra Sardoni che conduce il dibattito e a seguire come sempre Andrea Pancani che conduce Coffee Break. Allora a tutti voi una buona giornata. La linea va a Camilla Delai con il buongiorno.